Si chiama profezia dell'armadillo. Ogni previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per oggettivi e logici destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti. Potrebbe essere più chiaro? Un va de mecum per prendersela nel culo. Tutto si muove all'interno dello schema madre del sistema. Potere, abilità, sovraffazione, denaro. Ti dovevi vedere l'odio. Il dogma degli schelli di tutte le periferie d'Occidente. Questo è il film di quello che stavi dai miei padri, con la poca di feroce, con le TS. È normale che brucia, c'è pure scritto, spray al pepe, roncino. Sabato scorso ero bello riposato a mezzogiorno, una spruzzata fatta bene in faccia e poi riuscivo a intrattenere dei rapporti. Perché mi sto assofando? Senti, qual'è il problema del computer? Che hai fatto? Start? E dopo start? Scrivo cerca dove lo scrivo? Sulla scrivania? Non ce la faccio. Ti giuro, guarda. Che fai? È un mazzo, lo viaggio. Termo! Se mi lascia le generalità. Adriano Panetta. Professione? Professione. I zombie che poi li cadiano l'aglio, no? No, quelli sono i vampiri. I vampiri sono ricchi e fascinosi. Invece i zombie sono proletariato. Quanti anni c'hai, te? 27. Non è meglio, la fregna, no? Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!